Una trentina di giovani ginnaste hanno preso parte a Firenze ad un flash mob sull'importanza di avere le mani pulite. L'evento è stato organizzato dalla regione toscana per celebrare la prima giornata mondiale della sicurezza del paziente promossa dall'ONU. Al termine del flash mob alcuni studenti di infermieristica hanno distribuito materiale informativo sulle fasi corrette del lavaggio delle mani. Altra iniziativa hanno invece approfondito temi come l'uso degli antibiotici e la sicurezza di terapia. Obiettivo sollecitare i cittadini a fare attenzione alla salute e ad essere parte attiva nei percorsi di cura. Il che vuol dire essere attenti alle terapie che ci vengano assegnate, vuol dire l'uso corretto degli antibiotici, vuol dire usare quelle piccole cautele che sembrano delle sciocchezze come il lavaggio delle mani ed è quello di cui parliamo oggi in questa piazza che a volte possono impedire la trasmissione anche di batteri molto pericolosi. Tutte le iniziative sono state realizzate dal centro gestione del rischio clinico della regione con il coinvolgimento delle aziende sanitarie, degli ordini dei medici delle professioni infermieristiche, dei medici di medicina generale, dei farmacisti pubblici e privati e delle associazioni dei pazienti.